Etiopia, 1937. Una repressione durissima. Non ho visto il massacro, ma l'ho sentito. Ho sentito i colpi della mitragliatrice. Debreli Banos, un monastero. Una strage di cristiani mai raccontata. Una pagina nera dell'occupazione italiana. Il numero totale delle vittime stimate quindi oscilla fra 1800 e 2200. Quindi prenderei 2000 come la cifra approssimativa più vicina alla realtà. Debreli Banos, di Antonello Carvigiani. Sabato alle 21.